Frigorifero, scompartimento delle uova, ci stanno 6 uova, una accanto all'altro, ferma e là, a un certo punto l'ultimo a sinistra, si affaccia, guarda in fondo, se gira dal secondo uovo gli fa così, mamma mia, ma non hai visto come sta l'ultimo uovo, c'è proprio un brutto aspetto, il secondo si affaccia fa, oh c'hai ragione, si ha messo proprio male, ma per me c'ha qualcosa, anche bussare il terzo uovo gli fa, oh, ma hai visto l'ultimo uovo lì giù, un bel ridotto, e il terzo uovo si affaccia fa, oh c'hai ragione, si ha messo male male male, per me c'ha qualche malattia, perché c'ha veramente un brutto brutto aspetto, anche il terzo uovo gli fa, oh, guarda l'ultimo uovo come sta, e il quarto uovo si affaccia fa, mamma, questo c'ha qualcosa di brutto, tocca a dire qualcosa, anche chiamano il penultimo uovo gli fa, oh, guarda l'ultimo uovo come sta, tocca a dire qualcosa, l'ultimo si affaccia, se gira fa così, ma quale male, ma non vedi che anch'io qui.